...e sposti soltanto dove devi inquadrare. Non devi premere? Ah, ho capito, sì, sì, ho capito, ho capito. Ho capito? Non è come mi stanno questi qua, questi cantani. Come mi stanno? Guarda di film, eh. L'errore? Non sono da masca, eh. Tu non andavi a metterlo, io ho, no? C'è il quattro. Eh? No, ora mi provavo, così. Facciamo la transformation. Io lo sentivo. Ottimo. Come c'è scritto audio? Sì, ora mi stanno andando. C'è, basta. Ol-I-P-D-I-E-R-A-S-T. Ciao! Grazie a tutti.